Rieccoci amici con una nuova puntata su Herz of Iron. Nella scorsa abbiamo tolto tutti gli alleati dall'Europa, dall'Africa, dalle isole britanniche e dalla Turchia e il Medio Oriente. Si chiama così? Non so perché ve lo sto spiegando. Cosa faremo oggi? Oggi cercheremo di avvicinarci un po' all'America perché le mie barchette non ce la fanno, non hanno abbastanza range. Quindi andiamo qua, andiamo in Iceland, poi andiamo in Greenland, cioè Denmark, ok andiamo in Groenlandia e poi da lì sbarcheremo in America. Quindi sarà un po' un viaggetto lungo però nessun problema. Allora le nostre barche hanno bisogno di attraversare pam pam pam, ok. Quindi zzak zzak zzak. Andatevene direttamente qua. Intanto ho messo a lenare tutte le nostre truppe e anche quelle che devono andare a sbarcare. Qua intanto diamo altre medaglie. Nuclear bombs. Buono. Abbiamo già cinque reattori. Allora. Dobbiamo potenziare un attimo le nostre barchette perché guardate qua che schifo. Destroyer. Ma dove sono i light cruiser? Vesti forse? Non lo so, proviamo. Voi come siete messi? Sai che manca poco. Ma sì, ma ti ricostruiamo le nostre... Ricostruiamo noi le ships. Ho fatto il template del modern tank. Cioè ho eliminato quello... Quell'altro che avevo prima. Ne ho creato un altro così da non far crashare più il gioco. Va, zack, zack, zack. Qua quanto ne abbiamo? 49. Ok. Mettiamo questi così possiamo fare un po' di air superiority. Qua. Transport no. Mettiamo questi Mettiamo questi Ok Loro faranno Naval Strike e Naval Patrol Voi farete solo Superiority Oh potete partire subito Buono Pensavo servissero gli aerei invece no Vogliamo li allora anzi tolgo solo voi I fighter li tengo Andiamo di Destroyer Qua produzione navale Facciamo Cruiser Honor 2 No facciamo da 3 Eh si ce l'ha creato Prusante Che palle Ce lo crea come Heavy Cruiser Come faccio a creare un Light Cruiser Ah così Eh no che palle Ce lo crea ancora come Heavy Cruiser Tu come Light Ah ok non hai armatura Me lo crea ancora come Heavy Come cazzo faccio a creare lo Light Non ne ho idea Ok chi se ne frega Intanto a te Togliamo Poi come siamo messi Ok 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 Allora Ci servirà Il logistics company E qua facciamo un'altra compagnia Il maintenance Poi da qua Anzi prima guardiamo Posso fargli sbarcare lì? Mi sa di no Ah no, sì È un'unica provincia Ok, buono Le alleno ancora un pochino Qua ti ho dato questo Ti do recovery rate Ah no, cazzo Ce l'avevi già il recovery rate Vabbè, chi se ne frega A te darò logistics wizard Dopo appena arriviamo in America Ma intanto Possiamo sostituire questo Me lo fai fare? Yep Facciamo torpedo tubes 2 Pronto signore Pronto signore Facciamo disbandi irregulars Non mi servono più Vediamo quanti me ne sono rimasti Ok Unifichiamo tutto in un'unica armata 28 Ma poi che cazzo siete? Non ho più una divisione del genere Teamplay Eh, infatti Ok Facciamo che voi diventate Per armati Pronto Pronto signore A voi Crea un'altra divisione Create empty Allora Mechanized 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 Motorized Artillery Motorized Entity-tank Mechanized Mechanize Cosi cazzo sono i mecharisti? Ok, facciamo divisione meccanizzata Ok, 20 di combat width Ok Cambiamo anche qua il nome Buono Ma che cazzo mi stavano chiamando su whatsapp 5, facciamo 5 di questi Quindi 3 li ha fatti altri 2 Tac E vi trasformo in divisione meccanizzata Supply consumption Supply consumption E anche te Supply E a te metto Francesco Sanna Ok E voi ve ne andate Assieme a lui Allora Voi difesa No, facciamo Mandiamo tutto a badoglio Pronto signore Formazione Pronto Pronto Ok Però togliamo tutte le divisioni Non nostre Ok Anche qua mi sa che ce ne sono E infatti Pronto signore Pronto signore Ok Però difesa costiera Dove sta difendendo? Lì Non che difende anche qua Pronto signore 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 Centuria non mi serve neanche Visto che abbiamo praticamente Conquistato tutto il Mediterraneo E non c'è nessuna Nessuna zolla di terra alleata qua Però Lo metto comunque Per sicurezza Ok Posso fare qualcos'altro? Non penso Non mi sembra Eh infatti Qua quanto manca? Possiamo andare? Quasi Uh questi sono entrati con noi Ah Bella Che cazzo è la nostra flotta? Ah è qua la nostra flotta Poi appena hai da andare Li ho mandati lì E da lì li faccio scendere direttamente Poi trasformo i questi fanti In meccanizzata Pronto signore Sì signore Pronto signore Ora ricerchiamo il sonar Ma come ha dichiarato guerra Il Portogallo Alla Spagna Scusami Ma sono entrambi con noi Sono entrambi con gli alleati Però la Spagna Ah no Ah no La Spagna non è con noi No io non entro nella vostra guerra Oh sì Oh sì Mi dispiace ma lì non ci voglio entrare Quella guerra è vostra Non mia Sì signore Sì signore Sì signore Che vicino a Padova All'Islanda adesso Ma vi muovete a conquistare anche questa Questa pezza Produzione Andiamo di destroyer nuovi Sì signore dai muoviti tanto voi allora vediamo dove posso andare a dove posso mandare le barche così vediamo dove spawnare andiamo nel labrador no andiamo qua andiamo qua che abbiamo il porto pronto signore pronto signore pronto facciamo riparare un attimo qua abbiamo ricercato così tutto ah no dobbiamo fare i design degli aerei grazie a tutti che palle non ce l'ha fatto ii advanced quello ha allenato ancora un pochino abbiamo già tre bombe nucleari cosa ci serve one strategic bomber e come esichiamo noi strategic bomber scusami ok forse ce li crea lui intanto le nostre compagnie hanno fatto qua anche qua andiamo avanti di razzi e miglioriamo queste le logistics queste le toglierei però non me le fa togliere che palle ma sì signore Ok manca qualche giorno Qua intanto sta finendo di ripararsi però Quelle più importanti hanno finito Ah minchia minchia se sei veloce Allora iniziamo i sottomarini Loro intanto sono partiti Facciamo che partite anche voi E anche voi Facciamo che partite anche voi Facciamoci anche noi delle porte aerei Facciamo che partite anche voi Ma sì ma togliamo subito questo Facciamo l'ordine di attacco enorme Assegniamo tutto quanto e via E gli si è visto si è visto Assegnato il Communist China ha dichiarato guerra al China E' iniziata la guerra E il Giappone Minchia hanno perso una volta E adesso stanno attaccando di nuovo Va bene Intanto l'India si è dichiarata indipendente Sono fastidio quindi cancelliamo questi ordini Ok 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 Ma come 56% Scusami Sto invadendo tutti Voi nuclear Siamo a posto Massimo facciamolo anche in Libia Riempiamo anche la Libia di reattori Ok Sì, signore. Distroyer al massimo, intanto facciamo anche lo snorkel. Medium airframe. Allora, che difesa mettiamo? Cannon defense, heavy MG, light MG. 뭐라고? あれ Finchia stare lento però. E' lentissimo. Extra fuel tanks. Ah, chi se ne vede che è quello dell'alluminio? Ok. Allora, prima l'aeroporto che prendiamo e poi iniziamo a bombardare con le nuke dappertutto. Pronto, signore. Termazione. Pronto, signore. Pronto, signore. Sto mettendo a tutti meno supply consumption. Ah, tu ce l'hai già. Facciamo recovery rate. Tu c'hai tutto, mettiamo un altro attack. Tu c'hai tutto, ti mettiamo un altro recovery rate. Ok. Anche voi diventate... Dove sono? Divisione meccanizzata. Intanto hanno annesso... Uh, il portogallo. Alla faccia. Alla faccia del bordogallo. Wow, facciamo così. Alla faccia. costruiamo aeroporti e porto ok spostiamo da qua questi aerei ecco qua mettiamo gli strategic bomber assegniamo a tutti un asso così almeno danno una mano minchia sono sceso di un sacco lì legge bottai non so cioè la faccio ma non ho mai capito cosa mi serva qua ne mettiamo un altro ok Oh, siamo riusciti a avanzare qua. Oh, siamo riusciti. Oh, siamo riusciti. Oh, siamo riusciti. Mando tutto quello che ho. Ah, i transport play non mi servono. Alla prossima. Oh, siamo riusciti. Facciamo che voi diventate... Ehm... Divisione in genere. Ok, possiamo fare i sottomarini più potenti. Quindi qua... Zacchati. Sottomarino 3. Sì. No, sottomarino 4. Anche tu diventi un sottomarino. Allora, fermi e raggruppatevi. Oh, i comunisti hanno perso? Oh, sì che hanno perso. Allora... Servo un'altra invasione. Più in giù. Minchia, anche l'India è diventato un major... Un major problem. Allora. Per questo episodio è tutto. Nel prossimo vedremo di fare delle altre invasioni sulla costa americana. Così da togliere un po' di truppe. Perché sono... Questa concentrazione qua non ci va bene. Anzi, facciamo anche... Miglioriamo... Minchia, qua zero. Zero di infrastruttura. Certo che non funziona. Ok. Ok. Niente. Ci vediamo alla prossima puntata. Bella. Ciao. Ciao.